Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del Sant'Elia di Caltanissetta per soccorrere una giovane di 23 anni che è caduta da cavallo nel corso di una manifestazione in corso in un agriturismo di Gagliano Castelferrato in provincia di Enna. La giovane ha riportato un trauma cranico ma fortunatamente all'arrivo dei soccorritori era cosciente. Adesso la ragazza è ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad accertamenti da parte dei medici e sarà tenuta sotto osservazione.